Simone Petilli, settimo all'arrivo, l'eroe di giornata. Raccontaci la tua gara. Oggi ero partito con l'intenzione di provare a beccare la fuga e infatti fin dai primi tentativi mi sono buttato. Eravamo usciti 15 corridori ma il gruppo non ha concesso molto. Ai piedi del Predaia siamo stati riassorbiti e ho detto o la va o la spacca e ci ho riprovato. Il gruppo ci ha concesso un po' più spazio e sono riuscito a resistere al loro ritorno. Io ho 21 anni, arrivo da Dervio, sponda alle chiese del lago di Como. Ho preso il diploma in ragioneria due anni fa e per adesso provo a fare il ciclista a tempo pieno.